La New York Cheesecake è sicuramente il dolce americano più amato al mondo. Vi insegno tutti i segreti per prepararla alla perfezione. Iniziamo dalla base. Pesate e tritate finemente i biscotti secchi e in una ciotola mescolatele con il burro fuso. Prendete uno stampo a cerniera da 26 cm di diametro e foderatelo bene con la carta da forno, partendo dalla base e poi continuando con i bordi. Versate all'interno il composto di biscotti e con un cucchiaio foderatelo pressando dai bordi e poi il fondo aiutandoli con un bicchiere. Per la crema in una ciotola unite le uova, i tuorli, lo zucchero e mescolate velocemente con le fruste. A questo punto unite il formaggio spalmabile, il mascarpone e mescolate ancora velocemente con le fruste. Infine unite prima la panna, dopo l'amito di mais e mescolate fino a chiudere un composto liscio. Versatelo nella base e cuocendo a 130 gradi per 90 minuti. Tornate e fate russare 6 ore in frigorifero. Ed ecco la vostra cheesecake è pronta da mostrarla con cioccolato, pistacchio, frutti di bosco o come meglio preferite. La vostra qual è?